signori io sono il più odiato dagli scienziaturi da tastiera e dalle femministe tossiche qua 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 allora signori ho avuto una piccola discussione con willy quello di zosh park no in cui perché allora stava la signorina violetta che recenzisce film allora si è messo a parlare un poco del gatto di shireninger un po' del multiverso non il multiverso la multidimensione io ci avevo fatto un commento sotto no perché lei aveva parlato del cianuro siccome lei si recenzisce film l'aveva sentito un sacco di volte in dei film la parola cianuro allora io l'ho corretto come corresse pure alla amica sua la signorina di annaborati che non lo chiamate cianuro perché cianuro è un poco restrittivo chiamatelo cianuro di potassio perché quasi sicuramente quello là che cianuro di potassio c'è da lì che è stata ricavata è una specie di sale in pratica allora io gli chiamate cianuro di potassio è meglio perché poi io ho spiegato che cos'è un sale cioè sale praticamente è un acido che è stato alcalinizzato cioè è stato trattato con le sostanze alcaline in questo caso come si chiama con il potassio cioè intanto per farvi capire no ma ve la faccio più semplice così il sale della cucina praticamente che cos'è dell'acido cloridico cioè quello lì che è uno dei succhi gastrici trattato con del sale cioè del sodio che è una sostanza alcalinica poi ci sta che ne so il sale uffa che è quell'altro sale della cucina quello di sale dietetico che è sempre l'acido cloridico cioè quello che ci abbiamo dentro allo stomaco che è stato trattato con il potassio che è un'altra cosa che siccome il sodio trattiene di più liquidi del potassio fa gonfiare diciamo no e allora la gente pensa che si ingrassi però non è che si ingrassi invece il potassio non ti fa gonfiare in quella maniera e ti fa sembrare un po più secco cioè un po più cosi questo lo chiamo il sale dietetico però è tutta una c'è tutta una cosa magari qualche volta che ci faccio comunque io mi rimango il commento che ho fatte a non messo pure sotto altri video tanto per far capire ma la gente poco come funzioni cioè perché poi ci ho messo pure altre cose come io io l'ho portato pure a willy quello di zosh park quello si è incavolato perché ha detto la mia email serve soltanto per roba come cavo si chiama uffa serve soltanto per contratti business diciamo no allora io ho fatto un ultimo email dicendo ragazzo questa è la mia coscienza che poi non sono io senti questi errori qua sono errori piccoli che possono commettere tutti quanti cioè non è che io ce l'avessi sempre perché io la signorina violetta no l'ho correttante di quelle volte però non è che lo fa perché lei fa fatto cinema non ha fatto chimica però nella vita è un poco di chimica non guasta mai saperla ci sono le scienze sono belle però non sono tutte però saperlo un po che è una cosa buona il fatto che io con il caro willy no già steve un poco non dico con i ferri corti perché io prendo un po in giro non tanto lui perché era forse era il migliore però tipo i barbettoni carabettone scuro alian vartate che collato giacomo di end of the before life e altre cose perché quando stanno dritti mi sono stati fatti ma quando incominciano a sparare cavolate tipo che so il barbettoni è diventato una specie di si crede essere diventato di ogni potente no si è proprio adulterato cioè li pigli in giro perché abbassassero la crescita perché loro non sono non sono migliori degli altri siccome io già c'è già ce l'ho cantato in precedenza che so che pure lui a convegno praticamente sembrava non so se avete presente l'uomo medio il film l'uomo medio mediocre non mi ricordo in cui faceva vedere perché c'è praticamente willy come il barbettoni e la signora di panza vecchia mi parevano tre persone che stavano a pregare da quel film c'era quel filmato no cioè questo non è l'atteggiamento giusto per poterti fare diciamo una clientela cioè lui si già ci è andato un poco storto che l'ho criticato sul modo di dire le cose cioè ci è andato un poco storto all'amore questa volta qua ha detto non mi dite cose io ho detto a lui no se tu tra una decina d'anni stanno ancora stare ancora sui social a chiedere le mosine piuttosto che capire come volete ci mettere voi piuttosto che capire com'è che bisogna divulgare una notizia e altre cose del genere no cioè non è colpa mia perché chi è il caso di sommare piangere se stesso ma questo io non non è che ci avessi con lui che io no quando vedo tipo loro di scienziatutto della tastiera che vedo che sono praticamente tutti quanti teorici non solo c'è poca pratica e tutta teoria e credono che con la teoria si possa risolvere tutto no cioè per il fatto che tengo pure più di 30 anni la maggior parte di loro dai 29 30 31 vabbè giacomo è ancora giovane la teoria è una bella cosa però non è tutto nella vita bisogna pure un sacco di pratica perché ci sta differenza e differenza comunque io spero che lui abbia capito che nella vita bisogna sempre imparare cioè no perché si vuole con le femministe tossiche no quante volte l'ho corretta e loro mi hanno bannato ma hanno cosa io continuo a correggere no e quelle senza volerlo hanno capito anche però non ammetteranno mai la loro ma anche queste persone qua non è per fatto di orgoglio ma è di vanagloria perché si glorifiano di tante di quelle cose insomma guarda che io comunque tengo più anni di loro ho avuto già esperienza più anni e io quando io a me cioè ho beccato la sconfitta l'ammetto infatti di fatti al barbettone capottone ho ringraziato sai vai mi corretto fatemi chiudere qui che la memoria è finita tanti saluti e voto omar